Buongiorno e bentornati alle video lezioni sulla fusione nucleare a confinamento magnetico. La volta scorsa ci siamo lasciati con questioni riguardanti la collisionalità nei plasmi e la distinzione tra particelle circolanti e intrappolate che danno origine poi ai fenomeni neoclassici. In questa lezione invece introduciamo alcuni concetti che sono importanti per lo studio quantitativo di quelli che sono gli effetti poi di questa distinzione quindi in due classi di particelle come abbiamo detto e questi concetti sono sostanzialmente delle teorie che sono state introdotte per studiare appunto quantitativamente la dinamica del plasma. Innanzitutto il plasma è costituito da particelle come ben sappiamo. Il numero di particelle in un volume significativo di plasma quindi macroscopico è molto grande dell'ordine di 10 alla 23, 10 alla 24 o anche superiore e questi sono numeri che sono dell'ordine del numero d'avogadron, il numero di molecole o atomi contenute in una mole di materia. Il fatto che questi numeri siano così grandi rende lo studio della dinamica di questa materia da un punto di vista di singola particella praticamente impossibile perché richiederebbe un'enorme potenza di calcolo e questo fa sì che vengano utilizzati altri approcci in particolare si introduce una funzione di distribuzione che si indica con F. F ha un indice A che significa che è l'indice della specie che può essere elettroni, ioni o impurezze e questa F dipende la posizione R, velocità v e tempo t. Ora il significato della F è sostanzialmente la determina in che modo sono distribuite le particelle nello spazio fisico e nello spazio delle velocità ma questo ci dice poco. Per capire un pochino più intuitivamente cosa significa la F quindi la funzione di distribuzione è legata alla densità di particelle in questo modo quindi la densità di una certa specie di particelle in funzione dello spazio e del tempo è l'integrale nelle velocità della F quindi integrale di F in D3V e la N quindi la densità rappresenta il numero di particelle per unità di volume per una determinata specie quindi è una quantità che possiamo comprendere intuitivamente. Più tardi vedremo che esiste anche un approccio fluido che introduce altre quantità che sono momenti di ordine superiore della F e hanno un ben preciso significato fisico. Gli argomenti della F, vale a dire la posizione e la velocità, sono determinate dal motto delle particelle che sono soggette ai campi elettromagnetici. in particolare R e V sono determinate da queste equazioni. La derivata temporale di R è la velocità, questa sostanzialmente è una definizione, e dV su dt, quindi V' è la forza che agisce su ciascuna particella che è la forza di Lorenz, ovvero l'azione del campo elettrico più la forza V cross V, come ben sappiamo dall'elettromagnetismo classico. Quindi in presenza di campi elettromagnetici le particelle si muovono secondo queste leggi. Adesso la F a sua volta evolve nel tempo. La sua evoluzione temporale è data dalla cosiddetta equazione cinetica che quindi determina il modo in cui la F varia nel tempo ed è dipendente dalle forze che agiscono su di essa. L'evoluzione temporale, quindi la derivata temporale totale della F, si può scrivere in questo modo separando quindi la derivata parziale dalle derivate degli altri argomenti, che noi abbiamo indicato qui generalmente con Z. Quindi dF su dt, derivata parziale, più d su dz, dove z è un vettore che descrive lo stato del sistema nello spazio fisico e nello spazio delle velocità, di cosa? Di z punto, cioè dZ su dt per la F stessa. Questa è una sorta di equazione di continuità e, se in un certo senso, consiste nella conservazione del volume nello spazio delle fasi. Questa poi la vedremo tra un istante in maniera più esplicita, perché nella forma in cui la mostriamo qui è di poca utilità pratica. Ad ogni modo, i campi elettromagnetici che entrano poi in questa equazione si possono dividere in due parti. Una componente a breve distanza, cioè una componente locale, chiamiamola così, che è quella che determina quindi la dinamica delle particelle a breve distanza, ed è la componente in pratica elettrostatica determinata dalle altre particelle, ovvero il plasma è costituito da particelle cariche e ciascuna di queste ha un campo elettrico che esercita una forza su tutte le altre. Invece a grande distanza, su una distanza sufficientemente grande, quello che domina è l'effetto dei campi medi, che sono quelli macroscopici, vale a dire sommati su tutto il numero delle particelle. Se noi quindi separiamo i campi in una componente media e una componente microscopica, gli urti seguono sostanzialmente, gli urti tra particelle sono determinati dalla componente microscopica che si schematizza, che si rappresenta con un operatore di collisione. Quindi la parte, diciamo, la derivata temporale determinata dalle collisioni è rappresentata da questo operatore di collisione C, che ha indice A per intenderci che stiamo riferendo a una singola specie di particelle, ma che si ottiene sommando su tutte le altre specie di particelle, in modo che teniamo conto degli urti di una particella con tutte le altre. Quindi abbiamo visto come il campo elettrostatico locale, dovuto alle singole particelle, contribuisce con il termine di collisione. Se invece separiamo i campi, quindi nella parte microscopica locale e nella parte media, l'equazione cinetica si può scrivere esplicitamente in questo modo, quindi df su dt più v scala al gradiente spaziale di f, più e su m e più v vettor b df su dv, e questo è il termine di forza, quindi, uguale C, quindi termine di collisione. Questa è l'equazione cinetica più generale che si può poi provare a integrare per trovare la f. In condizioni di alte temperature, spesso le collisioni sono trascurabili, quindi nel contesto dei plasmi termonucleari, soprattutto vicino al centro della colonna di plasma, le collisioni sono piccole e quindi abbandonandole, quindi trascurandole, si ottiene l'equazione di Vlaudovo, che è uguale alla precedente ponendo uguale a zero il membro di destra. Adesso, la teoria cinetica ovviamente da qui poi procede e ci sono molti modi, sia analitici che numerici, per integrare queste equazioni, sia quella col termine di collisione che quella di Vlaudovo, però per i nostri scopi non ci fermeremo qui e vedremo invece altri approcci al problema. In particolare, se non abbiamo bisogno di tutta l'informazione riguardante la dipendenza da V della funzione di distribuzione, possiamo calcolare i momenti della f integrando sullo spazio delle velocità. I momenti sono gli integrali della f moltiplicati per delle potenze di V. Qui citiamo solo per esempio i momenti di ordine più basso, la densità in un momento di ordine zero, l'abbiamo definita prima, l'integrale della f in d3V. La velocità media, v grande, a volte le medie sulla velocità si indicheranno con parentesi angolate, è una f a pedice, ed è 1 su n per l'integrale di V per la f in d3V. E poi ovviamente da qui in poi se ne possono definire altre tutte allo stesso modo. In particolare c'è un concetto importante nei plasmi che è la temperatura. La temperatura è una quantità macroscopica che si definisce di solito per materia all'equilibrio, equilibrio termodinamico. I plasmi spesso sono fuori equilibrio, quindi la distribuzione dei plasmi è lontana da una maxelliana, tuttavia si può comunque definire la temperatura come la misura dell'energia cinetica media delle particelle. Quindi la definizione della temperatura si ottiene introducendo questa velocità, chiamata random o termica diciamo, che è semplicemente la velocità totale meno la velocità media ordinata, v grande. E quindi la velocità, la temperatura è definita in questo modo, 3 metri t è uguale a un mezzo m per la velocità termica media al quadrato. Si introduce quindi la velocità disordinata per distinguerla da quello che è il moto ordinato che darà la velocità cinetica media nel plasma. E i fattori tre mezzi e un mezzo seguono dall'equipartizione dell'energia, che è un concetto statistico, che qui però non ho intenzione di approfondire. Quindi i momenti della funzione di distribuzione definiscono quantità macroscopiche, come appunto la densità o la velocità media. E ciascuna di queste evolve secondo un'equazione, no? Un'equazione, quindi descrive l'evoluzione temporale. E le equazioni per l'evoluzione di queste quantità macroscopiche si ottengono prendendo i momenti dell'equazione cinetica. Quindi qui ho riportato per esempio solo l'evoluzione della densità e della velocità. La prima è l'equazione di continuità e la seconda è l'equazione dell'impulso. Le quantità pi grande che compaiono qui e la f, a membro di destra, verranno definite immediatamente. Riscrivo per comodità l'ultima equazione che avevamo visto, che era l'equazione dell'impulso, dove comparivano queste quantità che non avevo ancora definito, vale a dire pi maiuscolo e a f, a membro di destra. Allora, il pi maiuscolo è detto tensore di stress, ed è essenzialmente il momento secondo della funzione di distribuzione. E si può dividere in componenti, diciamo, in diversi contributi in questo modo, ovvero la pressione per l'identità più pi minuscolo, che vedremo subito che cos'è, più mnvv. Ho scritto separatamente vv anziché v quadro perché questo è un tensore. E invece f maiuscolo rappresenta la forza collisionale, ovvero la forza che agisce per effetto delle collisioni tra le diverse particelle del plasma, ed è definita come il momento primo dell'operatore di collisione, quindi integrale di m per v per c che agisce sulla f. Adesso, le componenti del tensore di stress sono la pressione P, che è uguale a nt attraverso l'equazione di stato dei gas, ed è rappresentata la componente scalare, messa tra virgolette per dire che questa è una quantità scalare e non è un vettore, e isotropa, vale a dire uguale in tutte le direzioni. Pi piccolo, invece, è il tensore di pressione anisotropa, quindi non è uno scalare, e l'anisotropia è data sostanzialmente dalla presenza del campo magnetico e dalla forma aturoidale. E questo gioca un ruolo importante nei componenti neoclassici, diciamo, negli effetti neoclassici. Facendo alcuni passaggi, tra cui l'uso della definizione sopra, le due equazioni, che per i momenti, quindi di ordine più basso, si scrivono in questo modo, dove ho ripristinato l'indice delle specie. Quindi, derivata totale della densità più n per divergenza di v uguale a 0, e n derivata totale di v uguale meno gradiente di pressione, meno divergenza di pi, più la forza elettromagnetica, forza di Lorentz, più la forza di collisione. E la derivata totale è definita come derivata parziale più v scala gradiente. E questa rappresenta la derivata combattiva, vale a dire, tiene conto sia della variazione intrinseca rispetto al tempo, e della variazione dovuta al trascinamento degli elementi di fluido ad opera della velocità fluida. Ora, da qui in poi si potrebbe sviluppare un altro discorso che consiste nei diversi approcci al problema, a seconda di come conviene affrontarlo nei diversi contesti. Tuttavia, questo mi porterebbe a affrontare argomenti molto complicati, che dubito che avrebbero un seguito, e quindi suppongo che questa serie di lezioni termini qui. Grazie a tutti.